Non sono un genitore 1, 2, 3, x, quello va bene per la schedina. Qua c'è il tentativo di imporci una società che va al contrario. La Lega rispetta le scelte private, personali, sessuali e religiosi di chiunque. Però la mamma è la mamma e il papà e il papà, quindi faremo obiezione di coscienza e ci rifiuteremo di firmare qualsiasi modulo da chiunque proposto che tolga la dicitura mamma e papà, perché siamo alla folla.